buongiorno prima febbraio 2020 ore 10 e 30 ho fatto un imbuso decotto di timo serpello e topi number come ben vedete l'acqua è color verde allora io ieri sera mi è venuta l'idea di fare questo imbuso perché so che fa bene in poche parole adesso senza che rielengo a mente ho preso gli appunti riferito alle proprietà del timo ecco qua mettete la ferma immagine e trovate tutti i poteri e benefici del lettino vabbè una calligrafia un po io scrivo veloce però se leggete con calma estropolate tutti i poteri del timo anzi leggo timo appartiene erbe aromatico come rosmarino alloro salvia e basilico aiuta il cuore e previene malattie vascolari attriti e antisettico natura poi che c'è tanto antisettico poi abbiamo il serpello pianta di timo contiene timolo potente antisettico antiossidante antispasmodico e poi c'è ricco di sali minerali poi calcio post per manganese potassio vitamina b c e vitamina k aiuta il cuore previene le malattie cardiorescolari proprietà antiossidanti e a bassa pressione sanguigna vabbè questo è quello che ho scritto che ho strappolato perché quando scrivo scrivo subito e veloce e poi sicuramente ripassa con la vero ricalco però ricordiamoci i effetti salutare benefici poi dobbiamo anche considerare che sia il timo che il serpelle sono esenti da insetticidi e pesticidi qui sopra la montagna di luca de marsi e il ricco luca de marsi un pezzo sito a 672 metri dal livello del mare ma io sia il che cosa si trova benissimo subito sugli 800 metri in su di altezza livello del mare comunque io lo prendo questo decotto penso che veramente fa molto bene ringrazio e saluti tutti gli eventuali le eventuali persone che vedono questo video grazie a tutti grazie a tutti